Ecco sempre che uno dei motivi per cui TACI ha investito è perché abbiamo un'industria altamente specializzata e abbiamo un settore manifatturiero molto diversificato, le competenze che ci sono qui sono elevatissime ed è questo che deve attrarre gli investitori. Non bisogna investire solo per portarvi al mercato ma bisogna investire per fare leva sulle competenze. Io sono certa e sono convinta che attraverso l'integrazione di competenze facciamo la vera innovazione e con tutte le issue sociali che abbiamo oggi solo con un'innovazione più spinta, più tecnologica, più sostenibile potremo veramente risolvere i problemi. Da italiana lei è ottimista sulla crescita? Devo, sì.